... Hi people, bene gente, eccoci di nuovo qui oggi su Ascension dopo tanto tempo Quindi, allora, direi di fare di nuovo load game invece di fare new game per quanto sono deficiente E direi di andare avanti, bene Quindi, spaviamo nel bagno? Ok, va bene Non ci trovo niente un animale Una porta e uno zombie Eh no, un cadavere Non è la tizia dell'inizio, no? Tua maglietta, Emilia Appunto, appunto Sì, quindi La bambina ha già perso la sua matrigna E il nostro spazio... Ah, quindi siamo sino davanti e abbiamo una ragazzina sotto le macerie E abbiamo trovato un corridoio Le scale Ma non avevamo già passato le scale Vabbè, non mi faccio troppo da male Non mi faccio troppo da male Chiusa come al solito Chiusa come al solito Ti pareva Signore Batterie di merda Madonna santa Oh Cacchio Cacchio Ah, vabbè, un pistoletta Fulmina, lampadine Come sempre Tanto per cambiare Una pistola Bene Andiamo avanti Oh, è arrivato l'amichetto Fritz Dell'altra volta Della Come si chiama? Carne gelida Ed è chiuso Porta di servizio Apriti Vai, dai, su Oh Scrappa dal mostro Com'è che si faceva per Togliere la luce Per trattenere il respiro? Com'era? 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 Sei morto? Bene Ma com'era che si doveva Trattenere il respiro? Che non mi ricordo Cioè Non Non ricordo Non ricordo Tanto questo Questo rospiro Madonna Qualcuno gli dia Un Qualcosa Il proprio Gli dia Non se ne può più Qual era però il tasto? Maledizione Qual è? No Non era questo No Questo cacchio Cambio le armi Questa c'è una luce E Qual è? Qual è? Qual è? Qual è? No Non è nemmeno questo No Con suo respiro Ah Era S Per quanto pare era S Che cretino che sono Era S Giustamente Ah Va bene Andiamo ad ammazzare Il nostro mostriciattro Ieri Allora Non c'ave Trattiamo rispito Shhh Metal Ghia Non ci ha visto Io direi di lasciarlo qui Buono Buono Questa ipotesi Andiamo via Andiamo via La porta aperta stavolta Buono Oh Erba come l'altro No No Questa mi sta d'allucinazione Mi sta d'allucinazione Allucinazione Mi sta d'allucinazione Mi sta d'allucinazione Mi sta d'allucinazione Mi sta d'appunto David Allucinazione Etterio L'altra porta In mezzo a nulla Voglio sapere chi è l'architetto Ti voglio dare il premio Nobel Di sto Non so Proprio Sì Voglio proprio sapere Chi è Sentono Versi No Oh no Un quadro Con il sangue No E si sentono rumori Da dietro Quindi Filiamocela Oh Cara Che cosa fai alla finestra E questo cretino Capisce che era un sogno Quindi Andiamo di qua Sì Sì Certo Proprio quello What Ma che cacchi Vabbè Non mi faccio più domande Però Sembrano Gli esseri che ci hanno attaccato E quelli là Tipo Vittime Morti Distruzioni di massa Omicidi Omicidi Oh Fiamme Ok Capisco che dico Che questo gioco È l'inferno Però Dai Almeno Dov'ho Prendermi alla lettera Dov'ho Creare le fiamme Che cacchio Dai Su Ma ti troviamo Eh No No Io ho quitto Io ho quitto Io ho quitto Perché il cielo Perché Perché Che senso ha Non lo voglio più sapere Non mi interessa 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 Quindi andiamo di male in peggio Quindi Andiamo di male in peggio Eh Senti tanto dei versi Enderman Sei tu Sei tu Enderman Oh Ok Oh Cristo What Ma non c'era Enderman Prima Che Cacchio What The Fuck Fatto Ok Usiamo L'ascensore A che piano Dovremmo scendere Boh Comunque Hai capito l'anno No? Mettiamo un attimo In pausa Allora C'è Cosa abbiamo appena visto? Mettiamo un pa Tanto non si fa niente La posto Quindi C'è Fiamme E cielo Così E Cadi dall'ascensore Come Come niente Sono Tornato Non ne sarei così tanto felice Non ne sarei Andiamo a salvare Intanto Che è meglio Mi sa Ah Oh Visto Bisognava Passarci sopra Chi si ricordava Se Sei paghi Allora Prima ci curiamo Prima ci curiamo Tasto 1 Sì Ok Premi Bene Salviamo Salva Bene Ok Andiamo Andiamo Però devo capire Perché nei bagni Si sente Persone Persone Vabbè Andiamo avanti Va È meglio Allora Oh Viola Ma non avevamo già stati Ma per i mani Ah Si vorrei da l'altra parte Ragazzina in braccio Posso dire che è una cattiva idea No Che Già Già prima ci ammazzavano Da soli A piedi Adesso Stiamo Da soli Con Con una ragazzina Possiamo Sare tante cose Ok Quel che Che hai scritto Non mi interessa Sinceramente Sto cerchendo Di Pensare alla situazione Ma Tipo Andare a salvare Mi sa che è meglio Se Bagno Salviamo Con la ragazzina in braccio Però Allo specchio Non si vede la ragazzina Ok Non mi interessa Andiamo avanti Andiamo Ah Andiamo da quella parte Tu ragazzina Guarda dietro Se arriva qualcuno dietro Fatti ammazzare Ok Va bene Brava Ottimo Ok Ok No 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 Strada sbagliata Strada sbagliata Strada sbagliata Ok Andiamo avanti Sento dei passi Quindi ci sta un tizio Brutto Che ci vuole ammazzare Quindi apriamo la porta E non apriamo la porta Logico Chi ha detto apriamo la porta Ma Non si apre la porta Lo sanno tutti Si Non ti preoccupare Apriremo Scapperemo Apriremo sta porta Inutile che va smucinare là Tanto Non aprirai quella porta E merito spazzino Delle mie palle Non ci riuscirai Ok Non ci riuscirai Va bene Allora Put viola What Oh Viola I have Ok Tu rimani qua Va bene Non andare Per favore Si si No devo andare Mi spiace Ascolta la ragazzina Andiamo giù No Non andiamo giù Chi è che ha avuto l'idea Di andare giù Si faccia avanti Grazie Quindi M'ho fatto Ah beh Da questo bagno Però Stai calmo Stai Stai calmo Stai No Ok Qua Buono Tu buono Ok Va Mi ricordo Si Dopo Si salta Bene Salta in lungo Grazie Bullet Take a bullet No Ok Ok Madonna Peggio di Ellie Questa ragazzina Allora Papà Papà Si Allora Figliuolo Hai la mira Veramente Da schifo Bene Piccola Vengo a prenderti No Non vengo a prenderti Scappa da sola Io sono morto Che bello Si Ok Proviamoci di nuovo Andiamo Tizio brutto è sempre qua E con il suo fratello Si però ogni volta ti fai massacrare Dai Su Ah quindi è già morto Quindi non dovrei fare Oh ok Picca viola Viola dai su Non ti preoccupare Ti ho quasi fatto ammazzare Ma non ti preoccupare Era quello che dovevi fare già tu all'inizio Quindi Non mi preoccupate Tizio brutto è di nuovo qua E ci sta attaccando Quindi noi scappiamo Apriamo la porta Perché la porta è aperta Se non mi cazzavo Andiamo avanti Cucina Posto peggiore dove rifugiarsi Proprio Fa schifo Ti possono ammazzare No Ti ammazzano No tipo Ti ammazzano Proprio No tipo Ti ammazzano Oh Pacchetto là Di vendaggi Amici Chips La Chiusa Non mi interessa sapere cosa c'è dentro Allora E buio No No Perché no Oh Ho capito perché no Allora Bene Ora so come si sentiva Stefano L'altro giorno Tiro il piattello Perché È brutto Ah Sono riuscito a usare il che Boh Mamma Che culo Che culo Che culo Ah Quindi Questa qua è l'uscita Finisce così Finisce con neanche un video Praticamente non è neanche un video Questa alla fine Scusa Scusa Viola Sì tutto quello che è successo Vabbè Sì 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 Vabbè Non ci interessa È questa la fine Voglio sapere È questa la fine Sì vabbè Che che è Non realizzi Mattia No No Taken Perché mo la pistola in mano Perché 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 sento battere la porta Questi non sanno aprire la porta E invece l'hanno aperta Eh te parete Si inceppava la Pistola Madonna 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 Ok Questo Sarebbe C'è finito così? No Allora Quindi Il gioco È finito con Lui Che dice Da quanto ho capito la storia Alla bambina Che non è Esattamente Suo padre E la madre L'ha fatto uccidere Quindi Termino qui Questo Video gameplay E questa serie Ci vediamo in prossima serie Al prossimo video Ciao ciao